Un taglio del nastro che ha un sapore particolare? Ha un sapore particolare perché è l'ennesima opera che questa amministrazione ha inaugurato e realizzato però questa è molto significativa perché è un'opera che erano decenni che tutta la comunità di Capaccio Pestum aspettava perché ripeto ancora una volta, questo non è un campo sportivo che serve soltanto per la squadra, le prime squadre diciamo così o gli adulti ma questo è un campo sportivo che è dei bambini, dei ragazzi, dei giovani che crescono perché attraverso lo sport, attraverso il calcio loro abbiano un insegnamento di vita quindi siamo veramente orgogliosi di aver riqualificato il campo ma soprattutto io penso che con quest'opera anche per quello che c'è intorno abbiamo riqualificato tutta una contrada Capaccio Scala e tutto un territorio E così un'ultima battuta, tutto è stato possibile grazie all'esproprio che l'amministrazione ha fatto due anni fa altrimenti non sarebbe stato possibile Sì, diciamo grazie al federalismo De Manialo perché De Manialo e noi con due anni di lavoro di duro lavoro siamo diventati proprietari di fatto del campo sportivo, della Collinette di tutto Capaccio Scala e questo ha permesso sì che noi attraverso questa proprietà l'acquisizione della proprietà di poter accedere a un mutuo e quindi di poter realizzare l'opera Grazie signor Dù